Parliamo con la dottoressa Paola Vinciguerra che torna a trovarci psicoterapeuta e responsabile dell'UIAP, presidente dell'EuroDAP. Parliamo di una donna che ci sta insegnando come uscire per esempio dagli attacchi di panico, non è poca cosa. Paola è una dottoressa iperattiva, la conosco bene. E la dottoressa Carla Petrucci, ben arrivata nei nostri studi, patologo generale. Allora, lo stress. Abbiamo pensato per accogliere due signore così e per strapparvi un sorriso di presentarvi un soggetto molto stressato, filmicamente parlando. Vediamo. Sì, sì, pronto. Sì, pronto. Sì. Ma chi parla? Sono io. Io chi? Io chi? Io, io. Io, io chi? Io, io. Ma mi conosci a me, no? Sì, e come va? Non bene, non bene. Chi ha fatto quella cosa a quel mio buon amico? Sta cercando di fare lo stesso a me adesso. E io ci sto avendo una reazione sull'argomento. Sto cercando di stabilire una specie di... Di transfert. Di transfert. Capito? Che tipo di reazione? Sono molto irritato. Sono molto irritato in proposito. Anzi, no, no, sono molto arrabbiato. Diciamo che sono molto incazzato in proposito. Ma perché me lo racconti a me? Perché lo racconto a te? Tu non sei niente in proposito. Io non so di che stai parlando. Non ne sei niente. E allora? Io non so di che stai parlando. Ok, vabbè. Stavo solo cercando di... Di dirti quello che sento. Di dirti quello che sento. E... Sono irritato. Sono irritato. E la mia è un... E la mia è una rabbia repressa. Una rabbia repressa. E aspetto di vederti la prossima settimana a quella riunione. Allora potrai sbloccare quella rabbia repressa. E quindi voglio sperare... Voglio sperare che non farai un'altra mossa contro di me. Brutto figlia e puttana! Se no ti taglia la palla e te la ficca in gola! Io ti squarto e ti sotterro! Ti pianto l'uncino nella palla degli occhi! Se ne strappa e poi la manda la tua famiglia! Che se ne mangia l'agne ognia! Hai capito? Ehi Paul! Che c'è? Vaffanculo! Vaffanculo tu! Ecco, questo è un soggetto molto stressato e anche molto mafioso. Togliete la seconda parte. Manteniamo soltanto la prima. Allora, dottoressa Vinci Guerra, e che fare contro questo stress? Ma è una cosa importante. Tanto per cominciare dobbiamo smetterla di dire sono stressato, sono ansioso e è normale. Perché purtroppo è normale perché è diffuso. Infatti noi abbiamo fatto dei test e non solamente noi, anche l'Università di Milano ed è risultato che il 90% degli italiani sono stressati. Sono stressati. E quindi questo è un dato importante che dobbiamo tenere in considerazione e dobbiamo imparare a rilassarci perché lo stress è pericoloso e l'ansia anche. Presente dei sintomi, la dottoressa Vinci Guerra ci ha detto di indicare, noi abbiamo fatto i compiti, insonnia, cefalea, irritabilità, disturbi alimentari e pensieri ossessivi. E su questi ultimi due forse... E disturbi anche sessuali. Ecco, fa più paura, no? Sì, perché purtroppo quando noi siamo presi da una situazione che dobbiamo risolvere, abbiamo la sensazione che ci sfugga, abbiamo la sensazione che per noi sia così però fondamentale, cominciamo a focalizzare l'attenzione ripetutamente a livello di pensiero, di organizzazione, su quella cosa, senza renderci conto che questa attenzione continua costante e non fa altro che innalzare l'attesa di un evento negativo che ci darà una risposta sempre più allarmante. Certo. Quindi dobbiamo imparare, noi della Paideia e dell'Eurodap abbiamo messo a disposizione di tutti una visita gratuita per valutare i livelli di stress e di ansia, proprio perché da lì dobbiamo poi partire per imparare a gestirla attraverso tutta una serie di tecniche che sono facili, che si apprendono con facilità. Si può fare, insomma. Si può assolutamente fare. Dottoressa Petrucci, è possibile che confondiamo i sintomi dello stress con altre patologie? Ecco, se non ci richiamo da chi ci sappia indicare bene cosa fare, magari facciamo una marmellata mentale tutta nostra. Assolutamente sì. Partendo dal fatto che lo stress in un certo senso all'inizio è positivo, quando si deve preparare un esame, lo stress fa sì che si superi questo evento, si vada caricati e si faccia anche una buona esposizione. Speriamo. Speriamo, sempre. Sempre, quello è fondamentale. Una serie. Quando ci troviamo di fronte a situazioni cronicizzate nella vita di tutti i giorni che non possiamo superare, quindi magari non siamo pronti o preparati a superarle, lo stress aumenta, quindi diventa cronico. Allora, che succede? Che non pensiamo più in noi stessi, che ci buttiamo nelle cose ma poi senza concluderle, perché perdiamo, come diceva giustamente la dottoressa, perdiamo la concentrazione, e comincia sulla salute un percorso inverso. E cioè, cominciamo a sentire i battiti che aumentano, cominciamo a sentire la tachicardia, appunto, la sudorazione, l'agitazione. Ora, finché queste cose spariscono nel momento in cui finisce questa gente che ci crea stress, va tutto bene. Ma se ci sono fattori di rischio, c'è una persona obesa, diabetica, ha il colesterolo alto, e quindi questo può portare ovviamente... Diventano tutte zavorre pericolose. Tutte zavorre pericolose, soprattutto a livello cardiovascolare, no? La dottoressa Vinciguerra, che insomma, vi dico, la conosco bene, e so che è una ragazza che studia sempre, sempre. Secondo me a scuola passava i compiti ed era anche la prima della classe, ha importato dall'Inghilterra la cosiddetta instant therapy. Che cosa fare? Allora, dottoressa, io sono stressatissima, sono in metropolitana, e me ne sono capitati di tutti i colori nella giornata. Che cosa posso fare invece di picchiare il signore di fronte? E' cosa che non devo fare. Ecco, non solo non devi fare, ma è anche pericoloso, perché poi tu quando sei così presa non valuti che il signore di fronte è molto più grande di te. Ecco, tra l'altro, oltre che per una questione di civiltà, per carità. Che cosa fare come piccola terapia istantanea? Allora, la piccola terapia istantanea è scavallare le tue gambe, metterti così, cominciare a respirare, e io questo l'ho detto anche per quanto riguarda il panico, e spostare la tua mente su, ad esempio, una situazione positiva, ma proprio costringerla, perché quando noi abbiamo uno stimolo negativo, la nostra mente ci porta a pensare a quello, ma guarda questo cosa fa, ma perché questa mattina non si è lavato, ma perché mi sta guardando così, e mentre io faccio questo mi carico di tensione. Se io mi metto, mi fermo e cerco di tirarmi fuori da quella situazione e cerco invece di risentire le sensazioni del pasto caldo mangiato ieri sera, dell'abbraccio dei miei figli, della bellissima gita che ho fatto domenica, il mio cervello comincerà a risentire delle sensazioni positive e si allontanerà dalle situazioni negative. Quindi è una questione di esercizio di volontà, di buona volontà, diciamo. Dobbiamo ritornare a tutta una questione sensoriale. Noi siamo sempre spostati su quello che disturba. Non ricordiamo e non viviamo ciò che invece è bello, perché nel controllo del momento dopo perdiamo continuamente l'emozione del momento presente. Bere un caffè, come io ho fatto due minuti fa, è una sensazione che io ancora ho, ma se io fossi stata spostata sull'ansia di quello che fosse successo dopo, io quel caffè non lo ricorderei. E vi ricordo unicamente alla fine della giornata solo episodi negativi, solo momenti negativi. Il terzo cartello che la dottoressa Vinci Guerra ci ha dettato è probabilmente, tra tutti gli altri, mi permetto di dire, il più importante. Se avete in casa una persona che si presenta con queste caratteristiche, non dite mai, sei stressato, prestate attenzione a quello che la persona fa, ascoltare, sdrammatizzare e sollecitare una confidenza. Devo essere sincera, dottoresse, cioè certe volte tu prenderesti il parente stressato che arriva sotto le feste di Pasqua e te le rovina perché è stressato, apriresti la finestra e faresti la terapia, non instant terapia, ma la terapia del frisbee. Cioè lancio del parente dalla finestra o dell'amico e non lo recuperiamo più. Non seguite le mie terapie, seguite quella della dottoressa Vinci Guerra, e della dottoressa Petrucci. Cosa fare in questo caso? Quello che abbiamo consigliato ovviamente deve essere anche in relazione al mio stato d'animo. Certo, se sono stressata pure io. Se sono stressata pure io, forse faccio il frisbee, che mi sembra una situazione qualche volta almeno liberatoria, come dice. Quanto meno. Ecco, quanto meno. Insomma, che la finestra si abbassa. E di conseguenza, quello che possiamo fare è renderci conto che la persona non ce l'ha con noi. Ecco, noi riusciamo ad essere disponibili se partiamo da questo presupposto. Cioè capire che l'altro ci sta parlando di sé, ci sta parlando di un suo... Anche se nella realtà è nervoso e gli dà fastidio il piatto come l'abbiamo messo noi. Sì. Allora, se io capisco a priori che l'altro è in uno stato di disagio e non mi sta dicendo che io non vado bene, ma che lui sta male, allora riesco a rimanere calma sempre respirando, che è la cosa importante. È fondamentale nella nostra vita. Viviamo perché respiriamo. Esatto. Però respiriamo male, perché respiriamo con tratti e non ci ossigeniamo a sufficienza. Quindi, e poi chiediamo agli altri cosa ti è successo oggi? Come stai? Esatto. Forse questa è una regola. Attenzione, non stiamo dettando regole di buon senso. Stiamo parlando con due professioniste, quindi la persona esageratamente stressata va piuttosto aiutata e va portata in un luogo dove riconoscendo, perché anche forse, dottoressa Petrucci, c'è anche un fatto di umiltà. Noi dobbiamo riconoscere uno stato di disagio che stiamo vivendo. Non siamo colpevoli per questo, non valiamo di meno. Nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta. C'è sempre un momento in cui si deve avere il coraggio di chiedere aiuto, no? E chiedere aiuto significa confidare quale sono anche le fonti di preoccupazione e come poi vengono esternate dall'organismo. si comincia a soffrire di insonnia. Quando si parla, noi quando facciamo i check, i check-up, i manager, i dirigenti, la prima cosa che ti dicono, la prima domanda, il pungo tra le altre cose, attività fisica, cioè un modo per scaricare l'ansia e lo stress, la risposta è quasi sempre scarsa o nulla. Cioè non hanno proprio tempo per sé. E questo secondo me è una cosa estremamente negativa, proprio perché ci vuole un momento, un modo per potersi scaricare. Dottoressa Petrucci, un buon film, una buona risata, ma proprio una risata fatta di cuore. Leggevamo l'altro giorno, ridete almeno 20 minuti al giorno, hai voglia? se vengono le certe persone allegre, di carattere, con buon cuore, hai voglia a ridere? Assolutamente sì, è fondamentale. Proprio, insomma... È fondamentale. Io non riuscirei mai a fare il medico col muso, cioè come mi vede qui, mi vede fuori. Io sono un ottimista di natura e quindi la trasmetto. Le chiedo per lo stress. Lo stress disturba fortemente il sistema immunitario, per esempio? Sì. A lungo andare, quando lo stress è cronico, cioè nel senso, si svolge un'attività, viene richiesto il massimo e non si riesce a farlo perché magari non si hanno i mezzi per poterlo fare. A lungo andare, le difese immunitarie diminuiscono e quindi si è molto più recettivi a patologie come l'herpes, come patologie autoimmuni, più serie. Per cui è importante, come diceva giustamente Paola, che è una carissima amica e una grandissima collega, partire da noi stessi e quindi cercare di dominare questi sintomi sicuramente aiuta anche dal punto di vista organico. Ricapitoliamo. Per persone che si ritengano e che avvertano di essere particolarmente stressate, imparare a respirare bene, positivizzare quello che abbiamo di fronte a noi, portare buona memoria delle cose belle che accadono. Esatto. Fermarci a registrare le cose belle per poterle ricordare nel momento che ci sembra tutto nero. Quindi le dobbiamo registrare, poggiare l'attenzione. a cercare di osservare la testa di osservazione. Grazie a tutti.